La vita è tutta un imbroglio, tutto un imbroglio, e tu per vivere bene devi stare in questo imbroglio. E tu quanti anni hai? 35. 35. E quando li compi? Il 30 ottobre. 36. Gesù sa già tutto, sa cosa fanno le persone, se sono cattive o buone, sa con chi ti sposerai, e sa se un giorno ti vestirà un tram. 37. Se sarai buono, Gesù ti manderà una ragazza con gli occhi belli, che sorride sempre e ti lascia dormire quando sei stanco. 38. Con quella ragazza ti sposerai, e nascerà una piccola famiglia. 38. Con quella ragazza ti sposerai, e nascerai una piccola famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.